Good morning a tutti voi e buona giornata. Abbiamo ripreso il nostro cammino feriale, anche se ieri era la festa della Madre di Dio e Maria, Madre della Chiesa. E oggi riprendiamo da dove eravamo fermi qualche mese fa ormai, perché ritorniamo alla lettura del Vangelo di Marco. Siamo al capitolo decimo. Pietro allora prese a dirgli, versetto 28 scusate, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose, in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto, in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Questa riprendiamo dopo che prima c'era stato l'incontro del giovane ricco, ricordate quel giovane che chiede a Gesù che cosa deve fare per avere la vita eterna e che rispettava tutti i comandamenti, quindi viveva già una vita molto piena. Va, vendi tutte le tue ricchezze, poi seguimi. E questo giovane se ne va via rattristato. Ora, e poi c'è la pagina del pericolo delle ricchezze, perché non si deve pensare semplicemente che per vivere il Vangelo noi dobbiamo lasciare tutto quello che abbiamo, cioè il nostro portafoglio, i nostri denari. Tutto ci serve per vivere. E quindi, voglio dire, questa cosa qui non deve essere neppure malinterpretata, no? Ma lasciare tutto significa in realtà riempirsi di tutto, significa in realtà avere un centro. Ecco, quando io metto al centro il Vangelo, al centro il mio tentativo, povero, umile, di vivere dietro a Cristo e quindi di vivere nel suo stile di vita con la mia famiglia, nel mio lavoro, nelle mie relazioni, ho lasciato tutto il resto, cioè ho lasciato in realtà il modo di vivere del mondo, direbbe Giovanni che abbiamo seguito fino adesso, no? Ma ho ricevuto tantissimo. Oggi, con questo Vangelo, io credo che ci sia un invito grande alla gratitudine. Alla gratitudine per tutto ciò che, grazie al Vangelo, grazie alla nostra fede, grazie alla nostra comunità, abbiamo ricevuto nella vita. Io credo veramente che sia così, che quando tu dai, ricevi molto di più. Io sono grato perché credo di aver ricevuto nella vita e di ricevere oggi tanta gratitudine, tanto affetto dalle persone che sono accanto a me e molto di più di quello che io riesco a dare, penso, ai miei parrocchiani. Io ricevo molto di più di quello che io do. Insieme a persecuzioni, perché nella Chiesa c'è anche sempre questo e spesso, come accade nella vita reale, spesso è tra di noi che ancora di più che ci accadono delle persecuzioni, non in senso fisico, ma il fuoco amico. Ecco, questo sì c'è anche sempre nella Chiesa ed è un grande scandalo, penso, quando nella Chiesa ci si fa del male. Però oggi pensiamo alla gratitudine per tutto ciò che abbiamo ricevuto in sovrabbondanza, quando ci siamo accorti che, mamma mia, tu hai dato qualcosa del tuo tempo, della tua vita e hai ricevuto immensamente. Che bello! Le cose belle della giornata di ieri, ieri per me è stata una giornata abbastanza tranquilla, diciamo così, una mattinata, un bel incontro di confessione, di scambio ed è sempre bello questo, quando si cammina insieme a qualcuno, ecco. E quindi questa è la cosa più bella della giornata. Poi ci siamo visti per, appunto, come sempre, per essere ragazzi, per andare al concreto. Ale, buona giornata a tutti voi!